Open day al convitto nazionale Mario Pagano di Campobano. Un istituto con una lunga storia che guarda al futuro. La scuola primaria e poi la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado con il liceo scientifico europeo. Porte aperte e la presentazione dell'offerta formativa. Rettore del convitto Mario Pagano, oggi l'open day, una scuola con una storia antica ma che sa guardare al futuro. Oggi la presentazione dell'offerta formativa, tre gradi di scuola, porte aperte, tante attività, tanti laboratori. Sì, oggi è il primo open day non soltanto il convitto ma io dico anche per me perché da poco che sono in questa realtà stupenda dove non soltanto c'è la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e il liceo scientifico europeo ma c'è anche un convitto perché funziona come semiconvitto e convitto. La particolarità, come diceva lei, è il fatto che ci sono 200 anni di storia però andiamo verso quella che è una scuola moderna, verso l'internazionalizzazione, verso una scuola che guarda al futuro e guarda all'Europa. Una scuola che guarda all'Europa, al futuro si punta molto anche relativamente all'aspetto linguistico, dalla scuola primaria fino poi al liceo scientifico europeo. Sì, abbiamo praticamente gli insegnanti madrelingua di inglese e spagnolo dalla prima elementare fino all'ultimo anno del liceo e la nostra programmazione provvede anche per l'anno prossimo di poter inserire la lingua cinese nel liceo scientifico. Abbiamo visto l'approccio a una didattica che in qualche modo favorisce l'apprendimento degli studenti, una didattica innovativa. Abbiamo avuto modo di vedere anche i diversi laboratori, lo studente al centro del processo di apprendimento. Sì, attraverso quella che è la didattica laboratoriale e appunto il docente è un coordinatore di quello che è il momento educativo e quindi al centro, come diceva lei, lo studente, ma non soltanto dell'apprendimento ma anche degli ambienti ai quali diamo molta attenzione in questa realtà. I ragazzi, come dicevamo, hanno la possibilità di stare qui in convitto, quindi anche l'aspetto della mensa, lei ha un po' rivoluzionato questo aspetto, possiamo dirlo? Sì, diciamo che questo me l'ha insegnato il mondo dell'agricoltura e quindi abbiamo una mensa a chilometro zero con tutti i prodotti locali, freschi, abbiamo i cuochi che appunto ogni giorno, quattro cuochi che cucinano per oltre 400 ragazzi, ma soprattutto andiamo verso quella che è anche l'educazione alimentare e il viver sano e bene. Una scuola che oggi con l'Open Day presenta l'offerta formativa, ma è una scuola, come dicevamo, con una lunga storia che guarda al futuro ma che soprattutto si apre al territorio e questa è un'altra rivoluzione. Sì, forse lei intende le domeniche al convitto e quindi il fatto di aver aperto, di aprire il convitto anche come museo per poterlo far visitare, abbiamo praticamente i corridoi della storia, quelli dell'arte, perché qui c'è un patrimonio che secondo me non può rimanere soltanto nostro, ma deve essere messo a disposizione di tutti. E quindi c'è la possibilità di prenotarsi la prima domenica del mese o per le scolaresche anche il sabato. Con la docente della scuola secondaria di primo grado del convitto Mario Pagano di Campobasso, con la professoressa Sabina Pasquariello. Oggi è l'Open Day per dar modo ai futuri allievi e alle loro famiglie di conoscere la scuola, una scuola che abbraccia tante fasce di età. Ecco, ci troviamo, come dicevamo, nella scuola media, tante attività, tanti laboratori anche in occasione di questa giornata. Sì, certo, la nostra offerta formativa viene ufficialmente presentata in questa sede, però siamo sempre a disposizione delle famiglie, anzi aspettiamo che le famiglie e i ragazzi vengano a trascorrere con noi delle giornate di studio, di lavoro qui da noi, indipendentemente da questa giornata di Open Day. La nostra scuola secondaria di primo grado ha una struttura di 30 ore, però i ragazzi il pomeriggio, dopo l'ora della mensa, rimangono a scuola, sono affidati alla guida di un educatore con il quale svolgono le attività di ripensamento e di studio pomeridiano e escono dalla nostra scuola alle ore 18. Questo perché la scuola secondaria si trova all'interno di un convitto nazionale, quindi i nostri alunni hanno lo status, diciamo, di semi convittori, alcuni anche di convittori perché possono anche dormire all'interno della nostra scuola. L'offerta formativa riguarda anche la possibilità di sviluppare l'orario didattico con una settimana corta, quindi le attività didattiche si svolgono da lunedì al venerdì. È una scuola che ha anche un indirizzo musicale, c'è la possibilità di scegliere tra cinque strumenti, l'arpa, il violino, il violoncello, il pianoforte e il flauto e poi nel pomeriggio, le attività pomeridiane, ci sono attività di approfondimento, di arricchimento. Alcune riguardano anche l'approfondimento linguistico, quest'anno è stato iniziato il corso di spagnolo con un docente di madrelingua. Lo stesso vale anche per l'inglese, l'inglese è in materia curriculare insieme al francese, però abbiamo comunque una docente di madrelingua che propone attività integrative ai nostri alunni. Poi ci sono corsi di scacchi e altre attività che anno per anno cambiano perché vengono cambiate in base all'offerta, alle novità, anche agli indirizzi e agli input che partono dalle attività ministeriali. Ecco, la musica, le lingue in qualche modo si punta già a formare i ragazzi anche in un'ottica poi futura, quindi puntare davvero su quello che serve anche per il mondo del lavoro, diciamo così, imparare le lingue, una competenza dalla quale non si può prescindere. Certo, come no? Sì, la nostra scuola va proprio in questa direzione ma a livello verticale perché tutta questa offerta formativa è spalmata dalla scuola primaria passando per la scuola secondaria di primo grado fino al nostro liceo scientifico. È importantissimo puntare sulle lingue e per questo proponiamo attività di arricchimento proprio con docenti di madrelingua che invogliano i ragazzi appunto a esprimersi in inglese perché l'inglese noi siamo portati a leggerlo, a scriverlo ma in realtà lo pratichiamo poco spesso. Altra cosa a cui diamo molta importanza e serve sempre per l'inserimento del mondo del lavoro è anche una didattica innovativa che vede l'applicazione appunto delle nuove risorse digitali, pure questo è fondamentale. I ragazzi sono abituati, sono nati con i tablet, gli smartphone, sono nativi digitali quindi questi strumenti trovano il giusto utilizzo appunto nella didattica quindi utilizziamo strumenti digitali, utilizziamo piattaforme digitali come quella di Google Classroom con la quale si crea una vera e propria classe virtuale e altre applicazioni che vengono adoperate a seconda delle materie di studio. Siamo con Ginevra e Daniele, siete gli studenti della scuola media del convitto Mario Pagano ma oggi avete un compito importante perché siete qui un po' a fare da Ciceroni e siete la parte attiva, i protagonisti di questo laboratorio. In che cosa consiste? Allora questa è un'attività interdisciplinare che abbiamo pensato appunto per legare le lingue con la nostra vita che viviamo normalmente e quotidianamente. Allora questa attività consiste nel dividere i ragazzi in due grandi squadre che possono variare da 2 a 15 persone. In questa attività ci sono delle parole su dei tavolini e tutte quanti in lingue diverse. Allora abbiamo tre lingue a disposizione, il francese, il latino e l'inglese. Queste parole ovviamente i bambini dovranno prendere, bisogna andare a capire di che lingua fanno parte. Che cosa vi è piaciuto di questo laboratorio? Come avete partecipato poi all'attivazione proprio di questo laboratorio in occasione dell'open day? Abbiamo all'inizio, eravamo felicissimi perché sapevamo di capire, collegare diciamo la nostra vita a quella che è la vita sul web, la vita in generale come era prima con il latino che adesso non si parla più ma che è la base delle lingue e noi in questa scuola studiamo tante lingue tra cui anche lo spagnolo che è stato inserito da poco tempo e lo studiamo con un madrelingua ed è bellissimo perché riuscire a ricollegare in qualsiasi parte dove vai, poi viaggiare è una cosa bellissima poter capire anche cosa ci circonda. Ecco voi siete ancora piccolini ma c'è un sogno nel cassetto e cosa ti piacerebbe diventare? Oddio, viaggiare e quindi diventare un escursionista, qualcosa che comprende il viaggiare. A te invece? Un avvocato. Grazie.